19 febbraio 1986, muore l'attore Adolfo Celi, nato a Messina nel 1922, nel 1948 lavora al film Emigrantes in Brasile, dove si stabilisce per 15 anni. A ritorno in Italia entra nel piccolo schermo con l'amaro caso della baronessa di Carini e la serie tv Sandokan. Il suo nome resta legato soprattutto alla fortunatissima trilogia di Amici Miei.